Una grande sfida, un progetto memorabile andato in porto a Amsterdam rende omaggio a Jan Vermeer, il pittore della vita quotidiana borghese, esponente di spicco del secolo d'oro olandese. Grazie a prestiti dai più importanti musei del mondo, la mostra espone 28 opere, la metà di quelle che si pensa abbia dipinto il maestro, scomparso a 43 anni e molto lento nel dipingere. È incredibile pensare che nemmeno Vermeer abbia visto così tanti suoi dipinti assieme, afferma il direttore del Rijksmuseum di Amsterdam, ed è sorprendente quanto gli altri musei fossero disposti a collaborare. Vermeer è consapevole delle potenzialità di colori, vernici, pigmenti, utilizzava soprattutto il lapislazzuli, un pigmento molto costoso che arrivava dall'Afghanistan e ad esempio nel blu della Lattaia. Ed è molto stabile, non scolorisce nel tempo, diversamente da pigmenti come quelli usati ad esempio da Rembrandt, più economici. Nato protestante, si converte per amore al cattolicesimo. Nelle sue opere, una borghesia attenta ai valori del lavoro e della famiglia, impegnata nella vita domestica e circondata da oggetti ricercati. Ciò che colpisce è che nei suoi dipinti sono soprattutto le donne le protagoniste. Nella realtà aveva sette figlie, era un contesto femminile quello in cui lavorava. È probabile che Vermeer abbia fatto largo uso della camera oscura per definire l'esatta fisionomia dei personaggi raffigurati e la posizione precisa degli oggetti nella composizione dei dipinti. E questo giustificherebbe la mancanza di disegni preparatori precedenti alle opere. Alla fine non sappiamo come arrivi a questa fantastica illusione, ai suoi dipinti incredibilmente belli, ma questo è il genio ed è inspiegabile. La mostra chiuderà a giugno, ma il successo è assicurato. Parlare non per slogan, ma per davvero di Europa significa raccontarne le origini plurali, meticce, di popoli in continuo osmosi, conflittuale o armonica, di intellettuali e pellegrini, artigiani ed esploratori, comunque un continente di viandanti che proprio nel Medioevo si costruiva al di là di limitanti appartenenze tribali. Ce lo fa capire una volta di più il grande medievista Franco Cardini, che nelle vie del sapere ci porta proprio in viaggio tra i centri della cultura, che però proprio grazie a questo esodo, a queste confluenze di autentici camminatori, erano in continuo contatto. Ecco allora Ravenna, cula dell'incontro tra la cultura classica e l'irrompere delle forze fresche dei popoli germanici ed esperimento politico di convivenza. E ancora Quisgrana, sede del primo rinascimento europeo sotto Carlo Magno. E poi il monachesimo, da Monte Cassino a Iona, da Bobbio a Cluny. Esempio luminoso è anche la Palermo di Federico II, la sua magna curia, che riforma la giustizia e diventa un punto di incontro di burocrati, ma anche e soprattutto di intellettuali e poeti. Luoghi quindi distanti, spiega Cardini, ma così vicini, in modo da far dialogare tra di loro arabi, ebrei, goti, longobardi, latini e greci.